Che ha appena fatto? Ha appena dato aria alla stanza. Che hanno appena fatto? Hanno appena pulito le loro scarpe. Che ha appena fatto? Ha appena aperto la finestra. Che ha appena fatto lui? Lui ha appena affilato la sua matita. Cosa ha appena fatto? Ha appena acceso il televisore. Che hanno appena fatto? Hanno appena sentito le notizie. Che ha appena fatto? Ha appena fatto bollire un po' di latte. Che ha appena fatto? Ha appena risposto al telefono. Che ha appena fatto? Ha appena votato la cesta. Che ha appena fatto? Ha appena fatto una domanda. Che ha appena fatto? Ha appena battuto a macchina una lettera. Che ha appena fatto? Si è appena lavata le mani. Che ha appena fatto? Ha appena attraversato il parco. Che ha appena fatto? Ha appena verniciato la libreria. Che cosa ha appena fatto? Ha appena spolverato la credenza.